Un ATP Challenger Tour che vedrà Roseto degli Abruzzi protagonista con due tappe dal 6 al 13 marzo e da 13 al 20 nel circolo tennis di Roseto. Un torneo internazionale maschile che consente agli atleti di acquisire un ranking che permetterà di ottenere punteggio. Una formula nuova back to back, cioè una tappa di seguito all'altra e peraltro si tratta degli unici tornei ATP in Europa. In conferenza stampa il presidente del circolo tennis di Roseto Luigi Bianchini, il sindaco di Roseto Mario Nunez e Luca Del Federico, direttore tecnico del torneo, assieme all'assessore regionale allo sport Guido Liris. La formula I love Abruzzo legata al tennis con i grandi eventi che hanno toccato anche il capoluogo è stata inventata l'anno scorso, ha ricordato l'assessore Liris, ed è una formula che parla ai territori e permette anche di curare gli impianti sportivi. Sono due tornei internazionali, gli unici in Europa, sono una grande soddisfazione per la regione Abruzzo. Vanno sulla scia dei grandi eventi che stanno diventando la matrice che contraddistingue il modo di verificare, di fare sport in Abruzzo. Lo sport è quindi strumento non soltanto di mandare messaggi positivi, ma di entrare nei territori, di capirne le vocazioni e le criticità e di dare una grandissima risposta alla fame di vita e quindi di sport che viene dai nostri territori. Il presidente del tennis club Roseto Luigi Bianchini si è soffermato sugli aspetti organizzativi. L'ambizione di fare un torneo così importante mette al centro Roseto e non solo il circolo. Il sindaco infatti ha parlato dell'importanza di quest'evento, anche per spingere a un turismo diverso che possa vivere non solo d'estate. Mettere al centro lo sport, il turismo, ma soprattutto la sinergia tra enti, regione, comune di Roseto, circolo, tennis. è appunto un torneo internazionale che permette di mettere al centro quella che è una destagionalizzazione, un turismo che diventa un affare di tutti, al centro di una programmazione, al centro di una sinergia di tutte le città della costa, ma al centro soprattutto di quello che deve diventare un modo nuovo di interpretare la politica, la politica che deve essere pronta. Ci sono giocatori top ranking 30 e per rafforzare la spinta turistica si è organizzato in queste date spalmate su un periodo più lungo per portare un incoming più importante sul territorio. Saranno coinvolte anche Albadriatica e Tortoreto con i campi di allenamento. Siamo riusciti a prendere questa esclusiva incredibile degli unici tornei ATP, non solo Challenger in Europa, peraltro con il fuso orario saranno gli unici tornei. Noi avremo la diretta streaming mondiale sul TV Challenger. È un'occasione straordinaria per la regione Abruzzo, per tutto il territorio della provincia di Teramo, il comune di Roseto, i campi di allenamento su Albadriatica e Tortoreto, e quindi ci auguriamo una festa importante e straordinaria per lo sport e per il turismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.